Buongiorno e ben trovati in Questa edizione di Mattino 6, venerdì 28 settembre 2018, siamo pronti per rivedere i fatti principali della giornata di ieri con l'ausilio dei giornali e anche con l'ausilio dei servizi del TG6. La giornata di ieri caratterizzata per quanto riguarda i fatti locali, chiaramente monopolizzata dalla cattura del quarto aguzzino, di quello che viene ritenuto il capo della banda che lo scorso fine settimana ha aggredito e rapinato in maniera efferata i coniugi martelli nella loro villa di Lanciano. I primi tre componenti della banda erano stati arrestati nella notte tra martedì e mercoledì e poi ieri pomeriggio a Caserta è stato catturato il presunto capo della banda, anche lui un romeno. Andiamo subito sulla prima pagina del centro, prima pagina di Pescara ma chiaramente la prima pagina avrà il medesimo titolo d'apertura nelle quattro edizioni del centro data la portata appunto della notizia. è infatti preso il capo degli aguzzini, un filmato all'autogrill di Brecciarole, un orologio, incastrano il quarto romeno dopo la rapina shock di Lanciano, si era dato alla fuga, lo hanno arrestato a Caserta. Ecco un'immagine del capo della banda scortato appunto dagli uomini della polizia dopo il suo arresto. E poi emergono altri particolari sul fronte delle indagini perché sono accusati di spaccate a bar tabaccai e benzinai. Altri sei colpi firmati da questa banda. E poi il nuovo indizio che è spuntato sempre nella giornata di ieri, sangue su scarpe e felpe dei banditi, forse è della donna mutilata. E poi ancora in basso, morta nel tunnel, è stato un omicidio a Pescara, violenze sulla 33enne trovata senza vita un anno fa alla stazione. Sono due gli indagati. E poi ancora a Pescara nuovo pronto soccorso, soldi finiti, cantiere bloccato. Ad Abbateggio aggredisce moglie e figlio con un bastone. Arrestato in basso il centro-destra verso le regionali. Svelati i nomi dei nove candidati. Fratelli d'Italia punta su Cianciotta, Biondi, Ballone e gli altri. Poi più tardi vedremo la rosa di nove nomi all'interno del quotidiano. Quindi è più di pagina di scarica. Bussi, oggi il verdetto che decide tutto. Si vota il 22 ottobre accordo per Gravina, presidente della Federcalcio. Il 22, le elezioni per il rinnovo del Consiglio federale e la scelta appunto del nuovo presidente della Federcalcio con la fine della fase commissariale. Siamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Come vedete il titolo d'apertura ovviamente è lo stesso. Andiamo sui richiami ancora più locali. Ad esempio in basso leggiamo sconti nei negozi nel giorno della scienza. A Chieti sbarca in centro la notte dei ricercatori tra studi e iniziative dei commercianti. Sempre a Chieti, Marrucino, il giorno della verità. La regione decide sui fondi. E ancora a Chieti si sostituiscono al medico dottori in pensione denunciati. Poi ancora andiamo sulla prima pagina sull'edizione terramana del centro. Anche in questo caso vediamo quali sono i richiami che caratterizzano la pagina in questione. Qui siamo a Teramo. Sisma, ci sono 260 milioni non spesi. La ricostruzione pubblica a Teramo, 305 interventi finanziati, 4 cantieri aperti. Poi la sfida alla crisi nel centro di Teramo aprono 5 nuovi ristoranti. Poi c'è il bilancio dell'estate. Siamo in Val Vibrata, alba da strisce blu e multe incassati 400 mila euro. E proseguiamo. Siamo sulla prima pagina dell'Aquila. Andiamo sotto la fotonotizia. Ancora la cronaca. Stalking a due fratelli, tre arresti. All'Aquila hanno perseguitato e picchiato le vittime per gli approcci a una ragazza. E poi all'Aquila ingegneri, architetti, controlli gratuiti contro il rischio sismico. Ad Avezzano, mercato trasloco confermato ed è rivolta degli ambulanti. Vediamo ora la prima pagina del messaggero Abruzzo. Chiaramente ancora la notizia principale è quella dell'arresto del capo della banda di romeni. Ecco qui, arrestato il capo della gang Lanciano. L'uomo è stato bloccato a caserta, sorpresa, è romeno come gli altri fermati. Le manette, subito dopo aver tentato di vendere un orologio, rubato ai coniugi martelli. Questo perché dalle prime informazioni che erano state diffuse sembrava che il capo potesse essere un italiano, probabilmente della provincia di Foggia, e invece anche egli è romeno. Vediamo sotto la testata l'Aquila, Sharper la notte della scienza tra robot e esperienze in 3D. Chieti, Marrucino chiuso, la regione stanzia i soldi per gli spettacoli. Calcio di serie B, lasso carato da Mr. Pillon. Marras nel turbo del Pescara, il 26enne che non aveva mai giocato nella categoria, è ora una mezza certezza, sono venuto al Delfino perché c'è la possibilità di mettermi in mostra. Andiamo di spalla e siamo ora alla politica. Centrodestra, Fratelli d'Italia, sceglie oggi la terna per il candidato. I nomi saranno esaminati dalla Meloni e dagli alleati. E poi ancora in taglio medio la fotonotizia. Pescara, scontro sulle aree di Risulta, Salasso per la sosta in centro. Case post sisma, il comune rischia il default all'Aquila, bollette non inviate all'inquiline, accumulato un debito di oltre 11 milioni. E poi in basso, inferno in famiglia, fuoco nel palazzo contro la moglie. Tutto questo ad abbatteggio in provincia di Pescara. E ora la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così. Il bando del GAL finisce in procura. Il TAR accoglie il ricorso di Matone e manda gli atti alla magistratura per accertare eventuali reati. E poi sotto la testata, auto blu e promozione alla ASL, ricorso in Cassazione contro le assoluzioni. La rapina in villa, presa la quarta belva della banda. Cronaca ancora, patteggia per le botte ai genitori. Scendiamo a centro pagina e siamo alla fotonotizia. Tutti contro la scheda per Palazzo Pompetti. Gli inquilini preparano il ricorso sull'inagibilità. E poi abbiamo quattro richiami intorno alla fotonotizia. Intanto per la cronaca, maestra va a processo per falsa testimonianza. Ad Alba Adriatica, beccato mentre pesa la coca al cliente. Poi ancora, da quest'altra parte, c'è la proposta, uno store di prodotti locali per salvare l'ipersimpli. Si è aperta questa vertenza oramai da diverse settimane per il punto vendita di Teramo destinato alla chiusura. Decreto Genova, speranze per la cassa integrazione. Poi in basso, camera di commercio, fusione rinviata ad anno nuovo, presentata la nuova edizione del progetto. Eccellenze digitali. E poi ancora a piedi pagina, Roseto e Pineto si punta sul turismo accessibile per lo sport di Serie C. Teramo pronto ad affrontare il gubbio con il dubbio speranza. L'autore del primo gol in campionato del Teramo, gol segnato a Imola nel turno infrasettimanale di mercoledì, ma che non è servito per vincere la partita. Vediamo ora le testate nazionali. Ecco qui, partiamo dal Corriere della Sera. Il governo dice sì al 2,4%, Tria cede, i 5 Stelle fanno festa in piazza. Salvini dice ora via la Fornero, Di Maio, 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. E poi di spalla, Ermini del PD, vice del CSM, in sostanza il successore di Giovanni Legnini, il nuovo vertice dei magistrati, perché ha vinto l'opposizione. E poi in taglio medio la fotonotizia con il caso Kavanagh, mi violentava e rideva l'accusatrice e il giudice. Christine Blasey Ford ha accusato il giudice nominato da Trump alla Corte Suprema Brett Kavanagh di averla violentata 36 anni fa. E poi di spalla decreto sul ponte autostrade fuori dai lavori, l'atto all'esame del Colle. E proseguiamo e siamo alla prima pagina di Repubblica. Vincono Salvini e Di Maio, deficit al 2,4%. Mattarella, Tria, non puoi dimetterti. L'eleghista, basta con la Fornero. Il 5 Stelle arriva, il reddito di cittadinanza, festa grillina sotto Palazzo Chigi. Ed ecco un momento dell'esultanza di parlamentari e ministri del Movimento 5 Stelle. E poi ancora il caso CSM, Ermini del PD, vicepresidente, lira del Movimento 5 Stelle. E poi ancora la polemica Genova, la beffa del decreto. Andiamo in basso, il giudice di Trump piange al Senato alla forza di Christine, lui cercò di violentarmi. Andiamo ora con la prima pagina di Libero. Salvini è già nel mirino della Corte Costituzionale. L'ascesa della Lega disturba i mandarini. Il capo della consulta manda un messaggio al Carroccio. Circolano idee di cui un tempo ci si vergognava. Noi faremo da baluardo. Intanto al CSM eleggono un vicepresidente Dem. Poi nel box centropagine abbiamo tre richiami. Aboliamo il vilipendio. Ecco chi vuole uccidere Umberto Bossi. Non sbaglia un colpo. E chi è che non sbaglia un colpo? È lei, Michelle Unziger, che sfonda pure in farmacia. E poi in basso, ma mangia ti una pizza. Giacchetti, digiuna contro il suo PD. Proseguiamo. Siamo sulla prima pagina del messaggero. Ecco l'apertura. Deficit al 2,4. Tria accetta, vince la sede. Di Maio Salvini, 10 miliardi al reddito di cittadinanza. 8 per rivedere la Fornero. Il ministro, resto per garantire i mercati. Di Maio, manovra del popolo. Festa, grillina in piazza. Lo sport sotto la testata. Intanto la svolta all'UEFA si convince. L'anno prossimo il VAR Pro Dunkin Champions. E poi la grande vigilia. Roma-Lazio, Di Fra, Di Francesco e Inzaghi. Studiano mosse da derby. I derby che si giocherà sabato alle ore 15. E poi ancora scendiamo. Sotto il titolo d'apertura c'è il retroscena. L'out-out dei leader al Tesoro. Il Quirinale ferma le dimissioni. Legge di stabilità da quota 100 a IVA e banche. Ecco le misure. Poi autostrade esclusa dalla ricostruzione. Ponte. Lo Stato anticipa 360 milioni. Ma il decreto attende il sì del Colle. Andiamo in taglio medio con la fotonotizia. L'ultimo Natale dei Vanzina è a 5 Stelle. Carlo Giamalato ha affidato a Marco Risi la regia del film Netflix. E poi sempre in taglio medio. CSM ok al PD Ermini. Movimento 5 Stelle contro le toglie. Così fanno politica. Scacco e grillini. Il nuovo vice mi sospendo dai dembi. Il ministro Bonafede replica. Stretta sulle regole del Consiglio. E poi in basso siamo ai fatti appunto di Lanciano. Lanciano preso il quarto Aguzzino. Catturato a Caserta. Tradito da un orologio romeno. Anche lui. Eccolo qui. Alexander Bogadan Coltenau. Di 26 anni. Proseguiamo. Siamo sulla prima del fatto quotidiano. Tria. Ingoia. Il deficit al 2,4%. E resta. Movimento 5 Stelle. Lega. Manovra del popolo. Più spesa per reddito di cittadinanza. Mini flat tax. E pensioni. A quota 100. E poi ancora in taglio medio risorge il Nazareno. Ermini vicepresidente. Renzi e Berlusconi si prendono il CSM con i voti della destra togata. E poi ancora a centropagina intervista a Bassetti. Abusi. Monsignor Viganò sparge solo minacce e bugie. Le smonteremo. Il numero uno dei vescovi. Il governo non esibisca la fede per consenso. E poi ancora un verdetto della Cassazione. Fotosee. Federica. Tocco. Confalonieri e Crippa. Complice condannato. Tre anni e dieci mesi. Proseguiamo. Siamo sulla prima del manifesto. Che titola così. La spallata. Nel DEF. Deficit al 2,4%. Dopo un lungo e teso vertice Salvini e Di Maio piegano il ministro Tria e portano a casa le misure simbolo del contratto gialloverde. Reddito di cittadinanza. Superamento della Fornero. Alliquota al 15% per le partite IVA. Pronto il no dell'Unione Europea. E poi situazione e caso migranti. La CEI. Decreto Salvini incostituzionale. Proseguiamo. Siamo sulla prima della verità. Che cambia argomento rispetto agli altri quotidiani. Ed apre così. Per cacciare l'uomo del ponte bisogna dargli altri 11 milioni. Castellucci ne ha già incassati 40. L'amministratore delegato di autostrade non si dimette. Ora si scopre perché. Clausola favolosa nel contratto. Finalmente il decreto. Aspi pagherà il viadotto ma non lo costruirà. Risarciti i mancati incassi ai commercianti. Poi la fotonotizia. Il Renziano Ermini diventa il capo dei giudici. E poi ancora in taglio medio il Parlamento boicotta la legittima difesa. Nel giorno in cui catturano la quarta belva romena di Lanciano. E parte il processo all'ostereo di non essersi fatto uccidere. Pietro Grasso sgambetta l'iter della legge. Che ora chissà quando vedrà la luce. Il sole. 24 ore. Ecco l'apertura. Manovra accordo al 2,4%. E Tria resta. Deficit per il 2019. Forti pressioni da Movimento 5 Stelle e Lega sul Tesoro. Fermo all'1,9%. Inserata l'accordo al Consiglio dei Ministri. L'ammontare della manovra sale a oltre 30 miliardi. Dalla flessibilità tesi 20 miliardi. Attenzione sui titoli di Stato. BTP decennali al 3% e spread a 250 punti. Poi la correzione. La fotonotizia al centro. Mediobanca. Bollorè scuote il patto. L'uscita a sorpresa del gruppo francese. Andiamo con la prima del tempo che parla di Pacco di Roma. Grillini da matti. In Campidoglio dicono sia fondi e poteri per la capitale. Ma poi quando la stessa mozione arriva in Parlamento la fanno saltare. La fotonotizia. Eccola qui. Al centro. Parola di Totti. Show del Capitano al Colosseo. Ecco tutto il meglio del suo libro. Di spalla. L'eroe in groia. Rischia il processo. L'ex PM nei guai per Peculato. E poi la sua affermazione in romanesco nel tempo di Osho. Ma chi me l'ha fatto fa di lasciare la politica che stavano da paura. E poi in basso. Manovra col trucco per andare alla guerra con l'Unione Europea. Accordo sul deficit al 2,4. Certo il nodo di Bruxelles. Si potrà dare la colpa ai soliti burocrati. Siamo alla prima della stampa. Def. Salvini e Di Maio piegano Tria. Manovra al 2,4. Mattarella gli chiede di restare. Il ministro alla fine cede. E sfida aperta all'Europa. I 5 Stelle festeggiano in piazza. E la finanziaria del popolo. La povertà è finita. Poi i provvedimenti. Reddito di cittadinanza. Stanzetti 10 miliardi. La flat tax partirà dalle piccole imprese. E poi il piano delle riforme. Più IVA e meno sgravi. Si andrà in pensione con quota 100. Processi. Rito unico. Il giornale. Caos manovra. Tria si arrende. Dopo minacce a Ricatti. Il ministro dell'Economia cede alle pressioni di Salvini e Di Maio. Sforamento del deficit al 2,4. Paura per i mercati. Forza Italia lancia un'allarme. I titoli di Stato in pericolo. La prima pagina del mattino. Più deficit per reddito e pensioni. Tria accetta di innalzare la soglia dal 2,4%. Resto per garantire i mercati. Passa la linea a Salvini e Di Maio. Sarà la manovra del popolo. Festa 5 stelle in piazza. E poi la fotonotizia. Ecco qui. Lanciando la fuga del capobanda. Vendeva il bottino nel casertano. preso a Casal di Principe. E poi ancora il secolo d'Italia. Che apre così tutti rumeni. Matteo Salvini. Ecco i criminali che in attesa di pagarci le pensioni di notte andavano a rubare. Picchiare. Mutilare. Andiamo a chiudere con l'avvenire. Ecco il titolo d'apertura. Il lavoro chiede più di promesse e sussidi. Vescovi preoccupati per le restrizioni all'asilo. Il presidente della CEI Bassetti. A conclusione del Consiglio Permanente. Illustra criticità e attese sulle politiche per il Paese. Poi la fotonotizia. Torna a risplendere la cappella della Sindone. Completato il restauro dopo il rogo di 21 anni fa. Lasciamo i quotidiani nazionali. Torniamo ai locali. Apriamo la pagina di cronaca legata ai fatti di Lanciano. E siamo a pagina 2 del centro. Il capo incastrato da quattro foto. Preso a Caserta il quarto romano. Cercava di piazzare un orologio rubato a Martelli. È un 26enne con una pena da scontare. Lo ha ripreso la telecamera dell'autogrill di Brecciarola. Mentre fugge. Da Velletri a Casal di Principe per piazzare il bottino. La polizia ha dato il nome falso di Costantin. E spuntano anche tracce di sangue su felpa e scarpe dei banditi. Forse della donna mutilata all'orecchio. Poi in basso. Ieri c'è stata la conferenza in procura a Lanciano. Parlano gli investigatori. Sono anche accusati di sei furti con spaccate. Poi eccoli qui i primi tre che sono stati catturati in una foto in spiaggia a San Vito Chietino. Qui invece altre foto quando escono dal commissariato di Lanciano. Eccoli sfilare nella notte mentre li portano in cella. Saranno interrogati domani. I vicini di casa a Lanciano raccontano che tipi erano. Uno di loro li ha visti portare materassi. Un altro li ha regalato i mobili del salotto. Poi ancora. Le relazioni non si fermano. Salvini torna a risultare sui social. Anche le associazioni locali dei romeni li condannano senza appello. Qui c'è un post su Facebook appunto di Matteo Salvini che posta una foto con i tre romeni e poi le vittime dell'aggressione, i coniugi martelli. E allora vediamo anche il messaggero Abruzzo, pagina 37. Il massacro di Lanciano, il capo della banda fermato a Caserta, sorpresa, è Romeno. Alexander Bogdan Coltenau di 26 anni cercava di vendere l'orologio di martelli. La foto segnaletica fatta vedere al medico per il riconoscimento. Cade la pista del boss pugliese di cui avevano parlato alcune vittime della gang. Poi in basso prendiamo i passaporti e andiamo via inchiudati dalla microspia in caserma. E allora vediamo il servizio realizzato ieri, mandato in onda sul Tg6. E' stato catturato nel casertano tradito dalla vendita di uno degli orologi rubati. Il quarto componente, la banda che ha rapinato e malmenato brutalmente i coniugi martelli nella loro villa della zona 167 di Lanciano nella notte fra sabato e domenica scorsi. Anche egli è di nazionalità romena, come gli altri tre sodali arrestati con una operazione rocambolesca nella giornata di ieri, sempre a Lanciano, prima che potessero scappare. L'arresto era nell'aria perché, come hanno spiegato le forze dell'ordine, nella conferenza stampa tenutasi questa mattina in procura a Lanciano, nei video delle telecamere di videosorveglianza del Bancomat, dove hanno prelevato i soldi dei coniugi martelli dalle loro carte di credito, si riusciva ad intravedere la fisionomia dei banditi in quel momento a volto scoperto. Indizi che hanno portato gli investigatori sulla strada giusta. Ci sono le immagini in cui si vede la fisionomia, in alcune si vede anche il volto che per chi lo conosce lo riconosce. E sono state sottoposte dalle precedenti vittime di altri reati simili? Non si può fare una cosa del genere. Noi abbiamo lavorato solo su questo caso specifico. In realtà tra la filosofia, il volto riconosciuto, l'abbigliamento, mettendo a sistema tutte queste informazioni, i punti GPS, siamo riusciti a ricostruire il passaggio. Abbiamo utilizzato anche il Sari che serve per riconoscimento dei volti. Se non ci riesce il Sari a riconoscere quel volto non ci riesce nemmeno la persona che l'ha visto incappucciato. La banda potrebbe essere la stessa che ha messo a segno diversi colpi nell'area frentana. La procura sta valutando di unire tutti gli episodi in un unico fascicolo d'inchiesta. Decisivo anche l'apporto dello SCO della Polizia, che assieme alla squadra mobile di Caserta ha catturato anche l'ultimo fuggitivo. Chiaro che si tratta di fenomeni criminali che richiedono un approccio, direi così, multidisciplinare, quindi non soltanto sotto il profilo investigativo della repressione dei reati, che è quello di cui si occupa il mio servizio, ma anche sotto il profilo della prevenzione. E' di una partecipazione nella sicurezza, a cui la Polizia di Stato in generale tiene molto. Avevamo piazzato un GPS. La mattina, il sabato mattina, avevamo sicuramente identificato i possessori dell'auto, perché voi come potete ben immaginare, il problema con le macchine, con la dottore straniere, è collegare la macchina al reale possessore. La mattina i carabinieri di Lanciano avevano proceduto con un normale controllo di polizia, avevano fermato le quattro persone, gli avevano fotocopiato il documento, quindi avevamo la chiara contezza che quella macchina era utilizzata da quelle persone. Successivamente è stato facile, nel momento in cui si è fatta l'analisi del positioning, collegare l'auto vettura non solo al luogo della rapina, ma soprattutto al luogo dove era stata abbandonata la macchina con cui erano scappati i rapinatori. In mattinata con un tweet il ministro dell'interno Salvini aveva chiesto pene esemplari per la banda e dopo la cattura del quarto luomo ha twittato «Preso anche il quarto rapinatore straniero infame, pare il tagliatore di orecchie, bene». Anche il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, si era congratulato con le forze dell'ordine per lo straordinario lavoro portato a termine, ricordando quanto questo sia importante per far ritrovare serenità alla comunità frentana. E ora torniamo sul centro e siamo alla politica, elezioni regionali. Ecco i nomi per la corsa governatore. Questa sera Fratelli d'Italia li ufficializzerà a Chieti, ma sarà Giorgia Meloni a scegliere la terna finale. Biondi è in polle. Allora ecco i nomi di Fratelli d'Italia. Pierluigi Biondi, che è appunto l'attuale sindaco dell'Aquila, ma abbiamo anche Michele Russo, Gian Donato Morra, Raitel Sigismondi, Antonella Ballone, Stefano Cianciotta, e poi ancora Antonio Tavani, Guerino Testa e Paolo Primavera. Questi i nomi che fanno parte appunto della rosa di Fratelli d'Italia. E poi ancora in basso i 5 Stelle all'Aquila, Lezzi in Abruzzo per i fondi UE, lunedì il ministro del Sud in Regione. Incontri con Lolli e i tecnici. Proseguiamo, discarica dei veleni, ultimo atto. Bussi, oggi il verdetto che decide tutto. In Cassazione del processo ai 10 imputati condannati per disastro colposo. Se vengono assolti salta la mega bonifica. Pagina di Pescara. Ancora la cronaca. Morta la stazione, svolta nell'inchiesta. Stuprata e uccisa nel tunnel dei disperati. La donna pescarese di 33 anni e con problemi psichici fu trovata senza vita un anno fa. La procura accusa due persone. E poi ancora, ospedale, il caso reumatologia. Mille pazienti reumatici ma ricoveri impossibili. Denuncia dell'Associazione Alberti. Malati costretti a rivolgersi altrove. Il direttore del reparto Gabini. Abbiamo gli spazi. Ora è il momento di aprirli. Ancora, cantiere bloccato da 4 mesi. Nuovo pronto soccorso. I soldi sono finiti. Spesi oltre 2 milioni ma ne servono altrettanti per sistemare tetto, pavimenti e arredi. L'apertura era prevista entro l'anno. Avanti ancora. Il maxi appalto in consiglio. Area di risulta comincia. La corsa contro il tempo. 12 milioni di euro del masterplan da impegnare entro il 31 dicembre 2019 all'esame dell'amministrazione. Anche il destino del dopolavoro ferroviario. E poi in taglio medio presentati. 530 emendamenti. Rischio paralisi. Forza Italia vuole un referendum in caso di vittoria alle urne. Il Movimento 5 Stelle progetto senza nulla di moderno. E poi ancora sì al pasto da casa. Mense dal 15 ottobre. Nulla osta della Asra al panino in classe in attesa che prenda via il servizio affidato dal comune. Alla serenissima ristorazione. E poi la pagina di Montesilvano. Pronto intervento sociale. Aiuti a chi è in difficoltà. Disponibili 20 mila euro. Lo stanziamento è stato impegnato dal settore amministrativo un martedì scorso. E c'è chi tira un sospiro di sollievo. Sono malato. Mi serve un sostegno per l'affitto. E poi in taglio medio commissione e gettoni e scontro di Ignazio e Rossi. Il presidente Orsini deve dimettersi. Non ci convoca da aprile. Siamo ora a Spoltore. Sgravi fiscali ai locali che rinunciano alle slot. Il comune aderisce al manifesto dei sindaci contro il gioco d'azzardo. Mozione provata all'unanimità la defiscalizzazione nel prossimo bilancio. E poi a Francavilla. Situazione parcheggi. Torna la sosta gratuita. Incassati 270 mila euro. Il comune sostituirà le strisce blu con quelle bianche. Ma già non si paga più. I soldi incassati da giugno saranno investiti nella manutenzione delle strade. Ancora nel Pescarese. Di nuovo la cronaca. Aggredisce in casa moglie e figlio. 42enne fermato dai carabinieri. L'uomo arrestato dopo l'ennesimo episodio di violenza aveva in mano un bastone. Nei mesi scorsi era entrato nella stessa abitazione armato di coltello ed era finito in carcere. Decisivo. L'intervento della figlia di 12 anni della coppia ha aspettato fuori dell'abitazione l'arrivo delle forze dell'ordine. Aiutandole a entrare per salvare madre e fratello. Pagine di chieti, sconti e vetrine artistiche. Città in festa con l'Ateneo. La notte dei ricercatori per la prima volta in centro con esperimenti e spettacoli. I commercianti si autotassano per abbellire la città. Sul corso un maxi tappeto. E domani si riaccende anche lo stellario. Grazie a tre ragazzi teatini torna alla discoteca all'aperto nel parco archeologico della Civitella a San Salvo. Quello di ieri è stato anche il giorno delle vittime del tragico incidente a Milano per due ragazzi di San Salvo. I nostri amici vivranno per sempre striscioni, canzoni e palloncini per l'addio a Marco ed Emiliana. Fresa Grandinaria e San Salvo distrutte dal dolore. Pagine di Teramo, ricostruzione lumaca, sisma per le opere pubbliche stanziati e non spesi 260 milioni. Dei 305 interventi previsti e già finanziati sono solo quattro e tutti per chiese i cantieri aperti. De Sanctis della Filca Cisle dice che bisogna potenziare le centrali uniche di appalto per dare risposte ai cittadini. E poi ancora sempre a Teramo, la città che cambia, il centro che rivive, aprono cinque ristoranti. Domenica scorsa, prima inaugurazione in corso dei Michetti, stasera c'è Gerica là al nuovo Desartiste in Piazza Martiri. Il 5 ottobre taglio del nastro di un bistrò di pesce in via Carducci. A metà mese sarà la volta del Maggese in via Stazio, seguirà una pizzeria in Piazza Sant'Agostino. Poi di spalla i numeri dell'assestamento, bilancio comunale il 2017 chiuso con 8 milioni di rosso. Le parole del neosindaco D'Alberto, la più grave criticità è la mancata riscossione dei crediti del passivo, in particolare della Tari, dalla vendita di immobili. Prevediamo un incasso di 200 mila euro. E poi ancora nel Tenamano ad Atri picchia la ex moglie, il nuovo compagno, subito a processo. Atri giudizio immediato per stalking e lesioni aggravate per il quarantenne arrestato dopo la violenta aggressione. Siamo alle pagine dell'Aquila, ancora stalking, stalking a due fratelli, tre giovani in cella. Tutto è partito dagli approcci a una ragazza in discoteca, le vittime minacciate e anche ferite con mazze di ferro. Ed è stato un anno di persecuzioni. E poi ancora, in taglio medio, due scuole depredate e messe a soccuadro, Rocca di Mezzo e Ovindoli rubati una tantina di computer, un televisore da 48 pollici e spiccioli. E poi ancora allarme droga nella Marsica, a casa per lo sballo, fermato universitario, Ascisce nascosto in cucina, altro arresto per spaccio in piazza Corbia d'Avezzano, e due giovani nei guai a Tagliacozzo. Siamo arrivati alla fine della prima parte di mattino 6, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi rientriamo con messaggero, la città e altri servizi. Di nuovo buongiorno, seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con la cronaca di Pescara sulle pagine del messaggero. Parco a caro prezzo, scontro aperto sull'area di Risulta, riqualificazione da 57 milioni e salasso per la sosta in centro a pagamento. Anche la Rivera, i residenti spazi per un'auto sola. Ieri la prima seduta di Consiglio Comunale, Alessandrini dice opera attesa da 20 anni e l'opposizione insorge, bloccheremo tutto. Poi ancora l'intervento prevede parcheggi a silos e interrati, nuovo terminal bus con soldi di privati e masterplan. Poi di spalla leggiamo ZTL in centro, tanti senza permesso. Da domani scattano le sanzioni di sabato e domenica, dalle 16 alle 20 su Viale Regina Margherita e Via De Amicis. Passa solo chi è autorizzato. Poi in basso lavoro e sviluppo De Masi. Ecco le rotte del futuro. Il sociologo ospite di Confindustria Chieti Pescara dice Cina-India, leader nel 2030, urge capire i cambiamenti. E poi ancora, sempre a Pescara, mense ok, il servizio riparte dal 22. Il comune incassa il sì della Serenissima all'interpello. Il sindaco esorta la ditta ad anticipare entro il 15 del mese. Nella giornata di ieri è arrivato anche il via libera della ASL alla seconda merenda che consente il tempo pieno da subito. Le parole ancora del sindaco Alessandrini, premiato il nostro lavoro di mesi, da lunedì dovrebbero riaprirsi le iscrizioni. Esultano i comitati e noi vediamo il servizio del Tg6. Serenissima ha risposto affermativamente all'interpello. Questo è l'istituto giuridico che abbiamo tutti imparato a conoscere in questa estate pescarese. E siamo lieti che si sia arrivati ad un approdo positivo, nel senso che la risposta affermativa di Serenissima consentirà la ripresa del servizio di ristorazione scolastica senza dover ricorrere a soluzioni ponte. Questo realisticamente succederà dal 15 ottobre. Questa è la data che la società ci ha indicato. Nel corso di queste settimane sarà indispensabile svolgere una serie di adempimenti perché noi ci muoviamo sempre nell'ambito delle previsioni legislative. Abbiamo corso fino a questo punto, continueremo a farlo in queste settimane. Siamo contenti perché in questo modo c'è una parola certa rispetto ad una vicenda che ha senz'altro molto attraversato l'opinione pubblica per i soggetti coinvolti, innanzitutto i bambini pescaresi, con questa diffusa intossicazione alimentare. E poi il fatto che la ripresa del servizio mensa consentirà la ripresa del tempo pieno che non è indifferente rispetto alle esigenze di vita delle famiglie. Le condizioni sono le stesse che aveva la CIRFUD? L'Istituto dell'Interpello prevede appunto che le altre classificate in una gara d'appalto pubblica rispettino il medesimo prezzo e le medesime condizioni. Proseguite gli incontri con gli istituti scolastici e i genitori. Da qui al 15 di ottobre, quando ci dovrebbe essere la ripresa delle mense, che cosa accadrà? Siamo prossimi ad una definizione rispetto alla possibilità di svolgere una seconda merenda. Non è un pasto da casa per intenderci, è una soluzione che potremmo mettere in campo, una soluzione ponte, lasciata alla discrezionalità naturalmente delle famiglie, consapevoli che appunto si tratta di una soluzione ponte e che la soluzione definitiva è quella della ripresa del servizio scolastico che avverrà a metà mese. Sempre a Pescara il McDonald's da Guerino, scelta dettata dal mercato. Le parole di Stefano Cardelli, chi ha investito non può rimetterci, l'impenditoria non ha prodotto offerte migliori. Taucci di Confesercenti aggiunge l'effetto della liberalizzazione acerbo, a sua volta dice ma anni fa quella concessione andava revocata. Avanti ancora esce dal carcere, picchia moglie e figlio e incendia la casa, ubriaco e armato di bastone, il romeno 42enne si è scagliato come una furia contro i due, la figlia ha subito chiamato il 112. Janu Dorin Iliuta ha anche aggredito i militari dell'arma che lo hanno bloccato e riportato in cella. Avanti ancora, siamo nelle pagine dell'Aquila, bollette del progetto case, il Comune rischia il default attacco dell'opposizione sui conti, bisogna reperire 11 milioni, secondo il centro-sinistra c'è il rischio di stangate sui consumi e sulle tasse. Approvato con i 18 voti della maggioranza il bilancio consolidato in perdita. Avanti ancora, siamo a pagina 42, la scienza fa centro e la notte di Sharper nel cuore della città, decine di iniziative a carattere divulgativo, laboratori, conferenze, spettacoli e lezioni per adulti e bambini. La navata dell'emiciclo ospiterà Giobbe Covatta alle 22.30, previsti sconti per il mega parcheggio e bus navetta ogni 25 minuti. La città si candida a diventare un riferimento nazionale della ricerca. Poi la storia si licenzia per non pagare gli alimenti. La Corte d'Appello ha confermato la condanna di primo grado inflitta a un uomo. Siamo nella Marsica, droga raffica di arresti in Marsica, operazioni di polizia e carabinieri a Carsoli, Tagliacozzo e nel capoluogo quattro sono le persone finite in manette, blizza anche in abitazioni di giovani. Il fenomeno sembra dilagare casi di spaccio a minori nei pressi dei giardinetti di piazza Corbi. Pagine di Chieti, Marrucino, arrivano i soldi di primio ok, ma non mi fido, il sipario del teatro potrebbe restare alzato per ospitare pure quest'anno nuovi spettacoli. Il presidente vicario della regione rassicura oggi la giunta approva l'atto per i 500 mila euro. Il sindaco dice voglio vedere prima la delibera, poi prenderò le decisioni. Di spalla Stellario si torna a ballare, sarà la prova generale. Domani la discoteca della Civitella ospiterà Marco F, giovane DJ italiano di fama internazionale. Poi anche sul messaggero chiaramente spazio ai funerali dei due giovani del Vastese che sono morti a Milano la scorsa settimana. Incidente a Milano, l'addio ai giovani, Fresa Grandinari e San Salvo hanno dato l'ultimo saluto a Marco Forlano ed Emiliana Colitto. I due amici hanno perso la vita nel terribile schianto con la moto avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 di settembre. Per la ragazza presente tutta la squadra della Vastese e tanta gente anche per la l'amico, la ragazza Emiliana Colitto era la sorella di un calciatore della Vastese. Pagina di Teramo, via alla stagione del Braga con il concerto dei docenti, otto gli appuntamenti in cartellone ogni sabato fino alla fine di ottobre. L'assessore Ponziani, importante sostenere questo evento prestigioso. Nonostante le difficoltà, il Conservatorio è riuscito a organizzare un cartellone di assoluto rilievo tecnico e culturale. Tutto pronto anche per la rassegna di teatro dialettale. Tutti gli spettacoli si svolgeranno di domenica. Poi ancora la situazione lavoro, ecco qui i persimpi per i dipendenti, ipotesi, cassa, integrazione e poi e-commerce, le imprese ancora in grave ritardo. Andiamo sulla costa a Giulianova, la città che chiude, addio a quattro bar. Ultime serrande si sono abbassate in un locale di via Sardegna, in due pubblici esercizi sul lungomare Zara e in Piazza Mara, demolizioni delle opere abusive. Il sindaco ha annunciato altre ordinanze con l'invito agli esercenti a mettersi in regola. Lasciamo il messaggero, andiamo ora sulle pagine della città. Siamo a pagina 5. Ecco qui il ricorso degli inquilini contro la scheda Aedes, in carico a tre professionisti per realizzare un progetto di messa in sicurezza che riesca a salvare le attività. La decisione è stata presa ieri durante l'assemblea condominiale a cui hanno partecipato anche i rappresentanti del comune. La ristrutturazione dello storico palazzo potrebbe costare intorno ai 7 milioni di euro. Vediamo il servizio realizzato ieri dal Tg6 con la protesta dei commercianti che le cui attività appunto insistono in Palazzo Pompetti a Teramo. Una vera follia la dichiarata inagibilità di Palazzo Pompetti e conseguentemente dei portici di fumo in Piazza Martiri a Teramo. Così la definiscono i commercianti che hanno ricevuto ieri l'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Gian Guido D'Alberto dopo che già i privati e gli uffici pubblici avevano abbandonato l'immobile. La sofferta decisione del primo cittadino era obbligatoria dopo che la scheda Aedes ha definitivamente posizionato il palazzo in questione in classe E inagibile. A differenza delle prime schede che lo posizionavano invece in categoria B e C cioè solo bisognoso di lavori. Voi sperate di non chiudere nonostante l'ordinanza? Assolutamente sì perché tramite la possibilità di certificare che nei nostri negozi non c'è nulla come d'altra parte realmente è così resteremo dentro insomma dobbiamo con una separazione che avremo, che presenteremo al sindaco le attività resteranno qui. Ci spiace purtroppo per chi ci abita che devono, anzi già stanno andando via. Ma incriminati sono anche tutti i portici? Beh questo è da vedere perché a guardarli segni particolari di evidenza di caduta o di crolli non ci pare che ce ne siano. Poi bisogna davvero capire e qui forse è un passaggio che vorremmo fare anche tramite qualche ingegnere per far fare un controllo più preciso, più puntuale della struttura del fabbricato. L'inagibilità di Palazzo Pompetti porterà ad una serie di misure drammatiche per la città. Delocalizzazione per un lungo periodo degli uffici comunali in altra sede, chiusura di dieci attività commerciali, portici di fumo e parte del Corso San Giorgio Transennati e forse anche Piazza Martiri. Un dramma cittadino. Intanto il condominio dell'immobile si riunirà urgentemente in assemblea. Privati e comune di Teramo pronti a dare battaglia e ad opporsi alla nuova perizia di inagibilità giudicata parecchio contraddittoria. Pagina 6 sulla città, i per sempli come store di prodotti locali, la proposta del Presidente di Confesercenti Grimi. Affidiamo gli spazi ad una copp di lavoratori e associazioni. Poi Camera di Commercio, fusione rinviata all'anno prossimo. L'unione tra gli enti di Teramo e l'Aquila non potrà avvenire realisticamente entro fine dicembre. Eccellenze digitali, presentato ieri, riuscito in due anni a formare oltre 300 aziende digitali. Poi ancora la cronaca, maestra a processo per falsa testimonianza, avrebbe dichiarato il falso sugli accordi economici per il pagamento della retta ad una scuola privata. Ancora la cronaca, auto blu e promozione, la procura in Cassazione, ricorso contro l'assoluzione in appello dell'ex manager Asle Varrasse e dei collaboratori Ambrosi e Antelli. Pag. 10, FSI torna a chiedere la testa della Di Pasquale. Il sindacato dell'Izietà S fa un nuovo tentativo con il neoministro Grillo per l'inconferibilità del presidente. Siamo alle notizie dalla provincia. Il bando del Gal finisce in procura. Il Tar raccoglie il ricorso di Matone sulla prologa e manda gli atti alla magistratura per accertare eventuali reati. Il Tar ha condannato la regione e il Gal Terreverdi al pagamento di 12 mila euro nei confronti del ricorrente. Il Parco Nazionale è un posto da lupi. Sono benventi i branchi censiti nell'area protetta. Confermata la stabilizzazione della popolazione. Le parole del presidente dell'ente Navarra. Grazie alle azioni efficaci di salvaguardia abbiamo restituito la condizione di buona salute alle specie. Avanti ancora altre notizie che arrivano. di cronaca patteggia per le botte ai genitori anziani. Durante l'arresto il giovane aveva aggredito anche la polizia. Rinviato giudizio un 37enne che picchiava la compagna. Siamo ad Alba Adriatica. Sporcizia e lavoro in nero nel negozio etnico. Sequestri e multa da 5 mila euro dopo il blitz del NAS in un'attività commerciale di Alba Adriatica. Il titolare dell'attività aveva allestito un impianto di videosorveglianza del tutto abusivo. Sempre in Val Vibrata e sempre ad Alba. Centrale di spaccio in casa 47enne in manette. Blitz antidroga dei carabinieri nell'appartamento di un rom. Sequestrata cocaina ed eroina. Poi ancora Tortoreto nella partita del cuore. Vince la solidarietà. Raccolti più di 12 mila euro che andranno a finanziare il progetto di sviluppo della missione in Angola. La partita è stata tra religiosi passionisti ed amministratori comunali. Quest'anno insieme ad alcuni migranti ospitati nei centri di accoglienza di Tortoreto hanno chiuso il match in parità sull'1 a 1. A Giulianova a Paride iniziano i lavori sul lungomare. Al via la sostituzione delle lampade sul tratto monumentale della passeggiata. I nuovi impianti permetteranno anche di garantire risparmio e maggiore sicurezza per i cittadini. Pineto e Roseto puntano sul turismo accessibile. Il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro sarà presentato durante la cena dell'associazione Abruzzo Amore. Andiamo ora con lo sport. Con pagina 24 della città. Con il gubbio, con il dubbio speranza. Il capitano del Teramo in golla Imola ha una caviglia gonfia ma spera di esserci domenica. Vogliamo vincere la gara per regalarla ai nostri tifosi. Ascoltiamo le parole del capitano del Teramo. Speranza. Ivan, è giusto che il primo gol ufficiale in campionato lo segnasse il capitano del Teramo? No, no, vabbè. Fa piacere ovviamente far gol. Però mi spiace che potevamo fare meglio e magari portare una posta in palio piena a casa. Magari non prendendo subito il gol appena fatto abbiamo preso subito il gol. Quindi quello è stato un peccato perché magari non prenderlo subito, passando i minuti, si poteva portare a casa magari. Che fosse un gol liberatorio lo si è capito dalla tua esultanza. Hai fatto 70-80 metri di campo per andare nel settore dei tifosi del Teramo. Sì, certo. Anche perché penso di mercoledì e tanti tifosi che vengono e ci seguono. Penso che è il minimo. Fa piacere comunque vederli. Ci seguono sempre. Dare il minimo penso andare da loro e condividere la mia e la nostra gioia. Il tuo gol, ma parliamo un po' del gol del Limolese. Che cosa non ha funzionato su quel calcio d'angolo? Semplicemente la marcatura. Mi ha perso la marcatura e ho fatto gol. Nulla di che. Ognuno ha le marcatura e purtroppo capita ma non doveva capitare. Perché appena ha fatto gol, ripeto, dovevamo alzare un attimo la sticella di attenzione, di concentrazione per non prenderla. Una settimana rosso-blusa, menetese, imolese, adesso arriva il Gubbio. Zichella ha detto che sono certo che i ragazzi daranno tutto per regalare al pubblico la prima vittoria stagionale. Ma certo, noi lo vogliamo e ce la stiamo mettendo tutta. È un percorso di crescita che stiamo facendo, dobbiamo crescere ancora tanto. Come ha detto il mister, speriamo di regalare la prima vittoria al nostro pubblico e che se lo meritano. Testate nazionali di sport, siamo sulla Gazzetta che apre così con uno dei protagonisti inattesi del campionato di Serie A. Il bomber del Genoa, il polacco Shistov Piontek. Piontek, la Juve, c'è, il capocannoniere scuote il mercato. Primi contatti con il Genoa, Marotta vuole anticipare le milanesi e le big d'Europa. E poi ancora sotto la testata il Milan si ferma anche a Empoli, va in vantaggio e spreca, ma il migliore è Donnarumma. Poi ancora l'1-0 arriva su autogol, poi ci sono i soliti blackout, i rossoneri costretti al terzo pareggio di fila. Andiamo ora sul Corriere dello Sport che apre con questa anticipazione sul big match di sabato tra Juventus e Napoli. Top class, questa l'apertura dentro la sfida Allegra in Cerotti. Nessuno come loro in Serie A, Max, non è mai partito così forte. La sua Juve è già da record, Carlo ha capovolto il Napoli, ora vuole vittoria. è primato, sotto la testata Totti torna capitano, Roma domani a testa alta, bisogna avere coraggio e fermare la contestazione. In futuro si vede Presidente. Poi in basso il Milan non sa più vincere, Gattuso rimontato a Empoli, 1-1. Poi tutto sport con un'intervista al DS della Juventus Paratici, Ronaldo è solo l'inizio. Sto già pensando al prossimo colpo, un altro CR7. Non è stato difficile prendere il portoghese perché voleva solo noi. Poi sotto la testata Cairo punge Zaza, non è ancora lui. Il Presidente del Toro dice sto con Mazzari. Poi il Milan non decolla, allarme Gattuso, a Empoli alta rimonta, terzo pari di fila. Andiamo a vedere ora le pagine di sport del messaggero. Marras è l'asso calato da Pilon, il 26enne non aveva mai debuttato in B, i suoi sprint ad una certezza per il Pescara. Giocare qui può essere una chance per chi vuole mettersi davvero in mostra. Vediamo l'intervista realizzata a Manuel Marras. Marras, autore di una grande prova come tutti i tuoi compagni. Vogliamo raccontare l'azione che ti ha visto protagonista nel finale. Te ne sei andato sulla destra, da posizione un po' angolata. Hai calciato di potenza, c'è stata poi la respinta del portiere. Sei arrivato vicinissimo davvero ad un passo dal gol. Marras, sicuramente l'azione è stato bravissimo Ugo a vedermi subito in profondità. Sono le mie caratteristiche, le ho sfruttate. Sicuramente devo fare meglio lì davanti, devo cercare di essere più determinante e di segnare. Il mister ha detto che ci ha chiesto grande generosità. Noi siamo tutti a disposizione, chiunque giochi, comunque dal massimo, penso sia visto. Sicuramente devo essere più determinante sotto porta, come ho detto prima, e cercherò di migliorare anche in questo. Una serata importante perché è arrivata la vittoria, la terza della stagione, la seconda consecutiva in casa. Davvero una giornata importante, secondo posto in classifica. Sì, ma al di là del secondo posto, comunque è importante per noi cercare di fare tanti punti ora, più punti possibili e poi vedremo quello che sarà. Sicuramente in casa dobbiamo sfruttare il fattore campo e ci stiamo riuscendo bene. Loro giocando col 3-5-2, i nostri esterni dovranno avere un po' più di generosità, di andare indietro. Io ho queste caratteristiche, le ho sfruttate e sicuramente non è un problema. Manuel, se Mancuso continuerà a giocare attaccante centrale, aumenteranno le possibilità di vederti in campo dall'inizio? Sì, ma chiunque giochi, comunque come ho detto prima, farà benissimo, darà al massimo. Io cerco di dare tutti i giorni il massimo e di ritagliarmi il mio spazio. Sempre sul Messaggero intervista un doppio ex di Padova e Pescara, l'ex centravanti Biancazzurro Andrea Cecchini, che dice vincere a Padova con la grinta dello scontro salvezza. Poi per il calcio a 5, ieri l'apertura di campionato con il derby tra Acqua e Sapone e la neopromossa Civitella. Acqua e Sapone vince il derby 4-1 nell'anticipo della prima di campionato, battuta il Civitella. Ora la Champions per la Lega Pro, Teramo stai più attento, Speranza porta in vantaggio il Diavola Imola, ma punta il dito contro la difesa, percorso di crescita che spero possa concretizzarsi domenica proprio con i tre punti contro il Gubbio. Quindi sul centro con l'intervista al portiere Vincenzo Fiorillo, che ieri ha visitato la redazione del Quotidiano. Fiorillo, il Pescara è unito, ecco il segreto, Pillon ci ha conquistati, Zeman poca sintonia, ma non c'è stata malafede. Nei giorni scorsi il 28enne portiere Genovese ha prolungato il contratto fino al 2022. Il mio sogno è tornare in A e conquistare una salvezza con questa maglia. E poi i dubbi in vista di Padova Pescara di lunedì sera, Pillon deve scegliere Mancuso o Monachello, si ripropone il dubbio su chi schierare al centro del tridente. Anche Cocco Scarpita, l'allenatore, il grande ex, in passato è stato calciatore tecnico dei Biancoscudati. E poi ancora Serie C, il Bonolis è un tabù, sei mesi senza vittoria. Speranza in dubbio dice regaliamo una gioia al nostro pubblico. Il difensore alle prese con una caviglia gonfia a seguito di una botta rimediata a Imola. E poi per i direttanti Occhiuzzi gioca a 50 anni e non voglio fermarmi da attaccante a mezzala. La lunga carriera tra i direttanti prosegue in prima con il Villa San Sebastiano. In Serie D, domenica Giulianova-Avezzano. Non sarà solo il ritorno di Federico Giampaolo a Giulianova, ma anche lo scontro tra fratelli. Francesco contro Federico, il derby dei fratelli di Paolo. La punta giallorossa, ci prendiamo in giro, aspettiamo questa gara da tempo. Il centrocampista, chi è il più forte, abbiamo caratteristiche diverse. E poi per il calcio a 5, poker, acqua e sapone, ma il Civitella c'è. I campioni d'Italia partono con il piede giusto in vista della Champions. La matricola strappa applausi, nonostante il K.O. Finisce qui l'edizione odierna di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con il TG, le edizioni principali delle 14, delle 19 e delle ore 23. Mentre mattino 6 tornerà domani alle ore 8. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese. Attenzione, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.